Andrà Braga per MSCTV. Signora Colombo, quanto è importante il dialogo tra le varie associazioni di presidi, di insegnanti e soprattutto di allunni e genitori per far sì di dare alla scuola cattolica un futuro migliore? Allora, è importantissimo, non tanto per stabilire una strategia, anche se è importante anche una strategia politico-associativa per poter contare di più, ma secondo me è educativo questo fatto di lavorare insieme e che ognuno nella propria associazione lavori ma avendo davanti questo sguardo che va oltre la propria associazione e che crea un'unità. Allora, questa unità diventa veramente, secondo me, la bellezza dell'esperienza della scuola. Sentendo anche l'intervento di Martino, è chiarissimo questo, cioè quello che si chiede, ma lo chiede il genitore come lo chiede il ragazzo, ma come lo chiede l'insegnante da un certo punto di vista, è questa unità. Ma che è un'unità non fittizia o teorica, è una condivisione, ognuno nel proprio ruolo, nel proprio compito, ma una condivisione fino in fondo di obiettivi comuni. Oggi mi pare che questo sia veramente una cosa fuori dal mondo, che non esiste, che non c'è al di fuori della nostra esperienza. Noi ce l'abbiamo, però tante volte non sappiamo valorizzarla e sappiamo neanche, quando io dico di sdoganare le scuole, vuol dire proprio questo, cioè portiamole all'esterno e valorizziamo questo aspetto. Perché secondo lei la scuola paritaria è un'offerta in più per un giovane? Allora, è un'offerta in più proprio per questo aspetto, perché può dare, io dico in modo teorico, ma sono convinta che ci sono tante esperienze che lo fanno, può aiutarci e aiutare il ragazzo in modo particolare, per cui aiutare voi, a dare un giudizio su tutti i fatti della vita. Per cui cosa c'entra la fede e un progetto educativo di una scuola cattolica con la vita? Per cui il giudizio è proprio a partire dall'esperienza quotidiana, perché altrimenti, sì, ho capito, per imparare bene la fisica rispetto alla matematica, giustissimo è importante, perché la questione didattica è importante, ma se non mi dà questa possibilità di guardare all'oggi, il quotidiano, oggi, con un metro e una misura diversa e con uno sguardo diverso e con un giudizio critico diverso, altrimenti non sarebbe una novità. Un grazie alla signora Colombo, un saluto da Andrea Braga per MSC TV.